Senatore Gianni Crozio, secondo la Lega Nord quale furto sta compiendo lo Stato nei confronti dei frontalieri? Abbiamo appreso da giornali del Canton Ticino che l'Inps avrebbe intenzione di utilizzare i 270 milioni di euro dei nostri frontalieri per metterli a disposizione per gli extracomunitari in modo più puntuale per quanto riguarda l'invalidità presunta tale degli extracomunitari. Se questo fosse vero è una cosa che grida vendetta al cielo. Ho parlato anche con il Presidente della provincia Sertori con il quale siamo disposti a fare le barricate sui soldi dei nostri frontalieri che devono assolutamente servire solo ed esclusivamente per la loro cassa di disoccupazione e non per gli extracomunitari che, irregolari tra l'altro, è a me a disposizione per un assegno di invalidità non ben definito. Questa cosa noi la stiamo verificando. Sembrerebbe che ha una fondatezza. Se così veramente lo Stato vuole fare questo, sarà una cosa che assolutamente non accetteremo. Quanti sono i frontalieri che perderebbero quindi questo fondo a loro disposizione? Qui a rischio ci sono tutti i frontalieri che in questo momento sono quasi 60 mila nelle province di riferimento di Sondrio, Varese e Como. Per cui noi stiamo vigilando col collega Nicola Molteni, col collega Candiani, perché siamo veramente molto preoccupati. Ma la cosa che è sconcertante è il fatto che l'Inps non ha mai pensato di dare nome e cognome a questi soldi che sono generati dal lavoro dei nostri frontalieri. Proprio per cosa? Pensare male, lo ripeto, si fa peccato ma si ciazzecca, per lasciarli dentro nel loro bilancio e utilizzarli a piacere. Ma sicuramente non li lasceremo utilizzare per questi fini che tra l'altro ci sembrano anche al di fuori della Costituzione. Grazie.